Ehi la ciù ormai, sono la CTS e ben ritrovati qui su Expeditions Roam. È passato un po' di tempo ma mi ricordavo che fossimo rimasti qua in questa situazione un po' spinosa di combattimento per liberare i gladiatori e per seccare il tizio che sta sopportando la defezione della traggia. Allora, abbiamo anche dei Anira qua con i suoi e Bestia dov'è? È qua. Ok, dei nemici abbiamo... ne abbiamo parecchi, non troppi in realtà, che sono uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, in particolare Damianos dov'è? Ah, arriveranno dei rinforzi. Have you gladiator guard, gladiator support, gladiator guard... Ah, lui è Damianos, ok. Ah, un sacco di vita. No bueno, allora... No, per uscire di qua dobbiamo per forza correre fortissimo. Non c'è nessun altro, per cui direi che... Aspetta, lui dov'è che è? Qua. Potresti fare un buff alla velocità? Non solo quelli che sono lì vicino. Per cui... allora facciamo... Intanto me li avvicino. Te, tu chi sei? Non so. Ah, Marcus Petronius, il famosissimo Marcus Petronius. Ottimo. Allora, intanto muovo qua. Ah, lui invece non muove un corpo. Sono lentissimi. Vabbè, allora fai che tu muovi qua comunque. Spendendo la seconda azione ci serve. Tu anche muovi qua. Allora, Iulia Calida... Ah, aspetta, aspetta, forse qua poi dopo non riesce a prendere nessuno. Sbagliato, vero? No, invece. Lui scudato... No. Se li facessi invece il quickshot... Dovrei... Stercarlo senza problemi, benissimo. Questo però c'è lo scudo. Defracted by shield. Questo fa un colpo da poco. Era un po' andare in cover. Ah, niente. Perché non lo scrive deflected by shield? Vabbè. Con Sineros lo muoviamo là. Vabbè, se non l'altro uno è andato giù. Gli altri due qua non so se si possono fare qualcosa. Vabbè, probabil... Ah, lui ha ancora da muovere. Facciamo che lo muoviamo in faccia al tizio. Dai, muoviamolo in faccia al tizio. Non abbiamo il tizio che dà... Recover. Ah, perché se gli potenzio lo scudo, ovviamente, lui è più lento. Allora, vediamo un attimo di Yanira e Bestia. La Bestia ci arriva addosso a lui, sì. E questo fa Pierce, per cui non dovrebbe avere troppi problemi da... E questo dà anche Bleeding. Solo il 79%? Ah, non ci piace. Ehm... Ma... Piercing non dovrebbe ignorare... Ma forse è ignorare lo scudo ma non l'armatura? Boh. Ma qui intorno abbiamo, per caso... Degli scudo... Degli f... Scudi, degli barili di... Di qualcosa, no? Adesso ho dei giallotti, ma non ho spesso. Non lo possono utilizzare. Niente. Lei ha... Ehm... Piercing damage? Sì, ma non... Shield bash. Ma non ci arriva comunque addosso a lui. Non ci arriva in tempo. Muoviamola qua. Che magari non è troppo tiro dall'altro arciere. E... Basta. Iulia Calida può fare... Ah, può ancora... Attaccare. Però l'interruptor lo spreca, in realtà. Perché se c'è il tizio, il tizio è inutile. Eh no, può arrivare anche là davanti. Dai, facciamo così. Sineros può ancora muovere di uno. E... Di tanto non c'è qualcuno ranged. Dai, ci sono unità amiche che magari... Ah, lui va da solo di là. Mi sa che non è una buona idea. Sai, bella? C'è l'arciere là che ti... Cacca, infatti. Ah... Pure. Ehm... Ah, si è mossa e ha preso il danno. Ottimo. Di Dea Neira. E... Di... Iulia. Allora. Io muoverei qua. Muoverei qua. Ah, non posso andare lì oltre. Però se invece gli faccio un... Knockdown. Ah, no, no. Gli toglie solo lo scudo. Ha senso. Ehm... Tu. Questo cos'è? Protect. Repair. Sistema lo scudo. Ehm... No, farei overpower. No, cosa... Niente. Facciamo slash. Paravissimo. Ehm... Con un aimer lo tira giù. Ma se facessi un quick... Ah, lo secca uguale ma... Uccide anche la tipella fuori. Ehm... No, allora, facciamo un aimer. Cavolo! Avrei dovuto fare il... L'altro. Assolutamente. Sono... Ah no, sono stacco. Ok, non sono... Però... A 0,2. Perché... 1,2. Si è flancato, ma non è flancato purtroppo. 0,2. Ma proviamo questo, quindi magari entra il bleeding. No. Adesso è più di una... Ehm... Allora, niente. Ok. E che non posso andare oltre in questo momento. Loro hanno tutti agit... No, rimane Sinaros. Ah, Sinaros può fare un revive oppure... Ehm... Questo ha un range 2, eh? Si. Allora, vai qua Sinaros. Tira giù questo, ottimo. Così almeno gli altri possiamo... Farli correre di qua. I rinforzi da dove sono arrivati più che altro? Ah, c'è un arciere. Ah, è dei tipelli di là. Si, ha senso che io mandi dei rinforzi là, mentre con... Bestia, Giulia, Deia Neira e Sinaros mi occupo... Bestia, Giulia, Deia Neira e Sinaros, sì, mi occupo di... Damianos. Oh, i gladiatori dovreste spostarvi più che altro per gestire l'altro. Se... No, perché? Sei scemo? È vero che è il nostro obiettivo, ma questo ci crepa, eh? Fazzo. Ma siete i gladiatori inutili, ragazzi. Bravo. I gladiatori sono... Si sono sciolti come neve al sole. Incredibile. Ah, possiamo fare revive, in realtà. No, questo è un cadavere. Possiamo fare revive sul cadavere. Allora, direi Sinaros, tu devi andare qua. Assolutamente. Non riesce ad andare oltre, eh? Ok, uno gli lascia redata. Allora, farei... Dagli bleeding. Tu. Questa non può farla, ovviamente. Vai, vai. Provaci così. Tu prova a fare un quick shot. Va bene, otto gliel'abbiamo fatti. Poi, che si fa? Allora, direi vai qua. Direi vai qua. Io direi vai qua. E se con lui invece... No, non ci arriviamo comunque. Non lo andiamo tutti di qua, anche se è un po' un overkill, perché... Quanto... Quanto... Ah, va poco range. Slash? Così... No, come è solo quattro di danno? Come cavolo è successo che non l'abbiamo tirato giù? No, non può spostarsi. Che fastidio, che fastidio, che fastidio. Non puoi neanche tirare tipo una pietra a casa. Che inutilità, proprio. Non so, abbiamo delle azioni non spese, ma... Ok, quello sta brillando. Aia! Bestia! Ah, resiste il burning, se non altro. Come flunked? Lui è flunked. Aia! Aia! Ancora? Allora, il problema è che questo è quasi... Questo lo tiro giù. Così posso fare uno slash qua. Benissimo, bravissimo. Eeeh... Ah, vabbè, è disarmato. E non può fare niente. Oh, togliamogli del morale. Del dubbio, non so se si è servito qualcosa. Allora, iniziamo con Sineros, che devi shreddare un po'. E fai anche weakened. Così ci fa meno danno, teoricamente, se... Eeeh... Impaurito. Questo è flunked? No, mi sta di no. Perché in una posizione di lato non può essere flunked. Eeeh... Facciamo così. Questo mi fa... Gli facciamo... Eh no, infatti, è difficile che gli facciamo dei danni. Eeeh... 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 Diamo così... E tu fai due quickshot. Se va bene... Yes, è andata. Fight back the guards. Ok. Per cui direi che... Julia tu torni indietro nel mentre. Stineros, puoi fare un... Cure... Eeeh... No. Bleeding, poison, burning... No, questo è solo stack. Dovrò farlo dopo. Allora, tu corri... Ha senso che vadano tutti di là, poi ci blocchiamo, no? Allora, facciamo che... Lei e bestia tornano qui indietro su questo orciere. È una bestia bloccata, ovviamente. Eeeh... Eeeh... Sineros se stai qua. Che magari può fare un revive. Eeeh... Eeeh... Iuli avanza un poco. Eeeh... Io non posso avan... In questi non può avanzare nessuno, sono tutti bloccati da quello. Ah, ok. L'abbiamo spaventato, se non altro. Buono. Ah, però ho preso il fuoco. Ah, no. Ok, resisted burning. Allora, andiamo su lui. 9 slashing damage, ma non lo succhiamo. Eeeh, infatti. Dovrebbe avere di nuovo... Ok. Dobbiamo andare addosso a questo, così non è neanche in cover. Allora, vediamo se... Riusciamo a non passare in mezzo alla sua... Mh... Più o meno. Beh, se non altro non ci scappa. Eeeh... Iulia da qua lo vede. Ok. Vai con un doppio, abbiamo il vantaggio dell'altezza, per cui dovrebbe essere... Ok. È rimasto solo più lui. Ma da qua lo vede, tra l'altro? No. Neanche da qua. Ma forse, in realtà... Non gli ha dato bleeding. Non dava bleeding. Boh. E niente. Veste qua può muoversi. E forse... Che la facciamo, dai. Una rimanente. No? È però bleeding, dai. Non posso però vivere a lungo. Eeeh... Ah no, Revive ce l'ho. No, quello è effunto, proprio. Ma non ho usato le mani? Perché non mi fa... Vabbè. E anche l'altro qua ci è andato. Non possiamo fare niente. Beh, uno di tre l'abbiamo salvato almeno. Anche se si è praticamente suicidato. Buono. Molto buono. Buono. E' stato una malattia. Ho stato aspettato per questo per tanto tempo. Lasciamo andare e sbagliare con questo figlio. Voglio vedere il look sul suo mace. Ora è giocato. Tu hai usato i miei gradiatori contro me. Non capisci qualsiasi per il risultato che ci hai messo in. Tutto quello che è successo questa notte è nelle tue mani. E' stato proprio tu. Quando i Servi riusci a riusci a terra parte la provincia, qualcuno importa di cui ti hai mostrato il passato a loro libero? Abbiamo ascoltato troppo da voi, Damianos. Devi essere quieti ora. E provi a affrontare la tua morte come un guerriero. Non lo uccidere. Non lo uccidere. Non lo so. In realtà sarei forse più propenso per imprigionarlo più che schiavizzarlo. E farlo poi giustiziare a Roma. Che indecisione. Però Giulia ha effettivamente detto che potrebbero cercare di liberarlo se ci fosse quello di una persona importante. Noi, prima di non scrivere i Zorro dai. Ah, ma c'è aggiunto semplicemente uno schiavo. Ah, beh. Why not? Sei una... Tosta. Mi piacciono le persone toste. Eh, non penso che ci siamo conosciuti ancora. Sono mazze tess. Da dove vieni, Damianera? È un nome greco? Un nome da gladiatore? È un nome greco. Qual è il tuo nome vero? va bene non hai una casa a cui tornare una famiglia? vuoi unirti alla mia guardia pretoriana? prenderai ordini da me? va bene, mi sembra un buon accordo sì, infatti perché vuoi andare a Roma? vabbè lo è d'accordo, te nera benvenuta è solo sicuro tutto ciò che ho avuto è stato preso quando ero capito se potessi spaventare armature e armature sarebbe buono va bene tanto adesso prendiamo un po' di roba da tutti no ma sono già 24 minuti quindi niente lo prendo io la roba e ci vediamo io vi invito come al solito lasciare un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi se per questo non è stato già fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti